Adesso la pagina sportiva, parliamo del campionato di Serie C di calcio, domani alle 17.30 il Pescara sfida la Carrarese in trasferta, dubbi di abbondanza, specie in attacco per Rauteri, le ultimissime proprio dal quartiere generale Biancazzurro dopo la conferenza stampa di poco fa da parte del mister, in collegamento Enrico Giancarli. Enrico. Buon pomeriggio Carmine, un saluto a te, naturalmente un saluto agli amici che ci guardano in diretta al TG8 dall'esterno delle KK Hotel, alle mie spalle il pullman del Pescara, la squadra sta per partire per Carrara domani alle 17.30 il secondo impegno in campionato della stagione contro l'undici dell'ex azzurro Antonio Di Natale. Proprio poco fa ha parlato in conferenza stampa il tecnico Gaetano Auteri, ci sono dei dubbi di formazione, problemi di abbondanza, unico, indisponibile è il centrocampista Giambò. In conferenza stampa Auteri non ha dato tante indicazioni sulla formazione, ma ha fatto intendere che i nuovi stanno bene dall'inizio o a partita in corso, possono già dare il loro contributo. Ascoltiamo. I giocatori che abbiamo preso sono giocatori pronti, che già si allenavano con altre squadre, per cui anche da questo punto di vista ci potrebbero essere possibilità. Quindi i nuovi, qualcuno sicuramente farà parte della partita o potrebbe fare parte della partita a gara in corso. A proposito della partita di domani, mister Di Natale poco fa in conferenza stampa ha detto guai a concedere spazio e gioco al Pescara. Il Pescara che partita vuole e deve fare a Carrara? Noi quello che faremo cerchiamo di non dirlo, perlomeno se lo diciamo evitiamo magari di dire cose non vere. Noi dobbiamo andare a giocare con un atteggiamento che persegua i nostri principi, i nostri criteri di gioco, il nostro modello organizzativo. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, la partita l'abbiamo messa a fuoco. Di fronte abbiamo un buonissimo avversario che ha qualità, che ha giocatori esperti. Da Mazzarani a Lucia, a Marino, giocatori che hanno qualità, a Infantino, a Dumbià, giocatori che hanno qualità tecniche. E quindi mi ha fatto un'ottima impressione la gara resa, la partita che ha fatto, o le partite che ha fatto e che abbiamo visto. Quindi è subito un bel test impegnativo. Ci dobbiamo andare a calare nella realtà della C, ma lo dobbiamo fare immediatamente. So che non mi risponde esplicitamente a questa domanda, ma rispetto alla partita con l'Ancona, potrebbe esserci qualche chance per i difensori che sono rimasti in panchina? Mi riferisco a Ingrosso e Illanes? Potrebbe. Però lei, non so che non me lo dirà, intanto la domanda la fa. Io così le devo rispondere. Può essere, le ho detto prima che, potrebbe pure essere, ho detto prima che nei prossimi 40 giorni giocheremo 10 partite. Quindi sa quanti cambiamenti faremo, però dovremo avere una sola costante, il Pescara. Dal punto di vista tattico, chiaramente l'è molto legato al 3-4-3, se guardiamo i numeri e il modulo. Per caratteristiche del centrocampo è escluso che in qualche spezzone di partita si possa giocare anche a tre, con tre centrocampisti, oppure si può fare? Ma io non è che sono legato a quello che noi esprimiamo in campo. Tante volte anche con quel sistema modifichiamo le posizioni, potremmo sempre cambiare. Perché poi bisogna anche valutare le partite che fai. Molte volte all'interno di una partita si giocano tatticamente 3-4 gare diverse, quindi devi essere bravo anche ad adattarti. Ma il nostro filo conduttore sarà quello. Ma cambieremo? Certo che sì, come no? Io non è che sono così legato, sarebbe da stupide. Queste dunque, Carmine, le parole del tecnico Gautano Auteri. Vi ricordo il match domani, ore 17.30, Stadio dei Marmi. Tra pochissimo la partenza della squadra. Se non ci sono domande, ti restituisco la linea. Grazie, grazie Enrico. Allora ricordiamo soltanto questa sera alle 20.05 su Rete Autosport il consueto appuntamento con l'anteprima riguardante il Pescar.